Buonasera a tutti telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Il penultimo giorno di questo 2016 ha visto prevalere il sole su tutta l'Emilia Romagna grazie all'alta pressione che ci terrà compagnia anche nell'ultimo giorno del 2016, sabato 31 dicembre. Infatti i cieli saranno sereni o poco nuvolosi su tutto il nostro territorio con qualche banco di nebbia al primo mattino sulle pianure centrali lungo il corso del fiume Po. Le temperature saranno in leggero calo comprese tra meno 5 e più un grado quindi attenzione alle gelate al primo mattino. Nel pomeriggio avremo temperature comprese tra più 4 e più 8 gradi. Ventilazione debole con qualche raffica moderata al primo mattino sul riminese il mare da poco mosso diventerà calmo entro la serata e proprio nelle ore in cui brinderemo al 2017 i cieli risulteranno sereni con qualche nebbia lungo il corso del fiume Po e le temperature saranno rigide comprese tra meno 4 e più 2 gradi quindi copritevi bene se trascorrerete il brindisi al 2017 all'aperto. Poi anche la giornata di domenica primo gennaio vedrà cieli sereni con nuvolosità in aumento dal pomeriggio a partire dall'appennino. Per ora è tutto buona serata da Andrea Raggini